presentata la terza edizione del maggio europeo l'evento organizzato dall'ufficio europa del comune di corigliano rossano per avvicinare il territorio alle culture alla storia e alle tradizioni di altre nazioni europee i contenuti e le novità dell'edizione 2019 sono stati illustrati nel corso di un'apposita conferenza stampa cinque le tappe previste ogni venerdì dal 3 al 31 maggio tra palazzo san bernardino rossano e il castello ducale di corigliano si parte con glasgow e west and bartonshire in scozia poi sarà la volta di copenhagen vienna plovdiv capitale europea della cultura insieme a matera e infine napoli con un omaggio anche a vincenzo valente io penso che l'europa ormai fa parte di noi stessi io mi sento cittadino europeo da una vita i giovani molto più di noi perché vedo i viaggi che fanno continuamente verso l'esterno l'erasmus è uno dei dei veicoli di maggiore integrazione culturale in europa quindi siamo forse noi over 40 over anche più di 40 quelli che ci approcciamo all'europa come qualcosa che non ci apparteneva il giovane di oggi si secondo me si sente già europeo forse manca di quelle conoscenze culturali che gli consentono di sentirsi cittadino europeo e quindi utilizzare l'evento del maggio europeo anche perché nelle scuole si parli della organizzazione europea del parlamento del consiglio della commissione europea a che cosa servono a quale scopo ci stanno perché svolgono delle attività e il modo attraverso il quale il ragazzo di rossano che fa parte della comunità europea a poco a poco diventa cittadino dell'europa un po come noi stessi che nasciamo italiani ma lo diventiamo cittadini italiani nel tempo con un'educazione alla vita alla vita politica e alla partecipazione. Tra le novità della terza edizione un friendship link con altre amministrazioni europee l'epi hour europeo e un maggiore coinvolgimento delle scuole nello specifico quest'anno il liceo artistico san nilo e l'istituto alberghiero. Abbiamo cercato di dare un respiro molto più euro ancora più europeo diciamo perché abbiamo cercato di curare la collaborazione con le altre città almeno con le città rappresentate quindi abbiamo dei collegamenti abbiamo il patrocinio del Western Bartonshire che è una regione della Scozia la Scozia sarà ovviamente rappresentata al 3 maggio nella giornata inaugurale e quindi siamo riusciti ad avere degli artisti scozzesi del We Artish Group che faranno una mostra d'arte proprio dedicata alla Scozia e inoltre abbiamo gettato anche le basi per una futura collaborazione per attività di partenariato e anche di gemellaggio con questa unità amministrativa diciamo la chiamano loro che è più o meno simile alla nostra regione appunto della Scozia quindi questa è una delle novità così come abbiamo attivato la collaborazione anche con la fondazione che si occupa di Ploftif 2019 quindi che è capitale europea della cultura insieme a Matera che abbiamo attivato grazie all'associazione 681 che è l'associazione dei Bulgari in Calabria che collaborerà con noi il 24 maggio nella serata dedicata appunto a Ploftif che rappresenta come nazione la Bulgaria. L'altra cosa importante abbiamo voluto coinvolgere attivamente i ragazzi soprattutto gli studenti delle scuole superiori e in particolare il liceo artistico San Nilo che si occuperà proprio di una mostra d'arte che si chiama Spasso per l'Europa quindi i ragazzi del liceo artistico proporranno le loro opere che resteranno esposte a Palazzo San Bernardino dal 3 al 31 maggio e quindi i ragazzi sono proprio i protagonisti anche di questo evento e della parte culturale di questo evento che ormai di questo programma di eventi che ormai è giunto alla terza edizione. In sintesi cosa ci aspetta? Beh vi aspetta un bel viaggio quindi un viaggio come diciamo sempre un viaggio virtuale nella storia nella cultura nella musica nei sapori di queste cinque città europee che abbiamo voluto rappresentare ad esempio anche per quanto riguarda la gastronomia quest'anno abbiamo voluto organizzare degli happy hour quindi proprio degli aperitivi europei in cui però accanto a quelli che sono a quello che è il cibo i piatti tipici della nazione che rappresenteremo faremo questa fusion con i con i piatti tipici della nostra tradizione quindi diciamo Corigliano Rossano unito alle singole città europee per queste degustazioni in questo aperitivo europeo che proporremo ogni sera dalle 19 e 30 ogni venerdì sera dalle 19 e 30 in una parte di Palazzo San Bernardino che è una parte esterna che è una porzione di giardino. L'edizione 2019 è patrocinata dal Parlamento Europeo dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dal Consiglio della West Dumbarton Shire